A pochi giorni dalla chiusura del mercato inglese, in Premier League, bisogna sperare in un botto sul fotofinish per quanto riguarda i top club. Il Manchester United ha da tempo messo gli occhi su Milinkovic Savic della Lazio, ma il club di Lotito aspetta l'offerta giusta. I Red Devils devono trovare il sostituto di Pogba, con le valigie pronte, destinazione Madrid. Attenzione però anche al Tottenham, perché in caso di cessione di Eriksen, su di lui il Real Madrid, Barcellona e Atletico, Milinkovic sarebbe il profilo ideale, sul quale però ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain. Una situazione di stallo, perché nessun club compie il primo passo per rompere il ghiaccio e innescare l'effetto domino atteso da tifosi e addetti ai lavori. Ecco quindi che la permanenza di Milinkovic a Roma non è poi così da escludere. Tra i Neymar e il PSG ormai è scontro totale. La foto del brasiliano campeggia sulla prima pagina del quotidiano catalano Sport che ha titolato E la guerra. Il giocatore infatti continua a non voler incontrare il DS Leonardo, perché la sua posizione è irremovibile. Ha voglia di lasciare quest'estate il Paris Saint-Germain. Il club, ormai stanco della situazione, prenderà una decisione definitiva in queste ore. E proprio per questo motivo il brasiliano si aspetta che la sua dirigenza possa una volta per tutte cominciare i negoziati con il Barcellona. C'è fiducia per raggiungere l'accordo con i francesi, magari offrendo come contropartita alcuni giocatori. Il Milan e Marco Giampaolo puntano ancora su Suso. Dopo un'estate piena di rumors sul futuro del giocatore spagnolo, il tecnico lo ha scelto ancora, visto che è stato tra i più positivi del precampionato rosso-nero. Unico neo tende ancora ad occupare la sua zona preferita, cioè quella esterna d'attacco. Ma l'allenatore nativo di Belinzona vuole lavorarci su, ed è convinto di poter sfruttare le sue qualità. Ed ecco perché ora la dirigenza milanista pensa di trattenerlo. Suso è approdato nel gennaio del 2015 al Milan, collezionando 110 presenze e 20 i gol con una parentesi al Genoa nella stagione 2015-2016. Sky Sport riporta la notizia secondo cui Mario Balotelli sarebbe vicino a concludere un accordo con il Flamengo. La squadra brasiliana, con Sederio De Janeiro, avrebbe iniziato la trattativa attraverso l'agente FIFA Andrea Cattoli e sarebbe pronta ad offrire all'ex attaccante di Inter e Milan un contratto per due anni e mezzo. Super Mario avrebbe già accettato la proposta e, se la trattativa andasse in porto, sarebbe il primo italiano a giocare nel Flamengo. E non sarebbe nemmeno l'unico membro della famiglia Balotelli ad andare in Brasile. Infatti il Boa Vista sarebbe pronto ad offrire un contratto a suo fratello Enoch.